Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri giovedì 15 giugno, si è recato a Torino per i 50 anni della Fondazione Agnelli. A margine dell'evento c'è stata una contestazione da parte di un gruppo di genitori che hanno voluto esprimere il loro dissenso nei confronti del decreto che impone l'obbligo delle vaccinazioni per l'accesso a scuola. Siamo un gruppo spontaneo di genitori che è qui oggi per chiedere l'abolizione di questo decreto che è assolutamente anzi incostituzionale. Mattarella ha firmato e tante voci non sono state ascoltate, non siamo assolutamente contro i vaccini, questo deve essere chiarissimo. La dicitura No Vax è sbagliata, ma chiamo per la libertà di scelta, perché ognuno deve avere la libertà di scegliere il bene per i propri figli. Voi siete un gruppo spontaneo di genitori e vi siete trovati oggi per manifestare appunto il dissenso verso questo decreto. Gli bambini sulle mani, dai bambini sulle mani, dai bambini sulle mani, dai bambini sulle mani, dai bambini. Libertà di scelta vaccinale, libertà di scelta vaccinale, libertà di scelta vaccinale, libertà di scelta vaccinale. Guanti Sordi, Diano Dato, Mazzarella, Aitir Marco, Guanti Sordi, Diano Dato. Grazie per la visione!